Ciao amici di Italia Top Games, anche oggi mi tocca ridoppiarmi perché la Playstation 5 non ha preso la mia voce, stavolta avevo fatto tutto giusto, se no non si può più fidare neppure della Playstation 5 cosa ci rimane a questo mondo. Vabbè, a parte le battute, eccoci qua, martedì 20 settembre e ragazzi, come ho scritto sul titolo, qui è davvero calma piatta. La delusione per il Tokyo Game Show, per quanto mi riguarda, non si è ancora sopita, non ci sono novità, non c'è nessun tipo di novità, sappiamo che Konami ha fatto una bug list di bug che saranno risolti all'aggiornamento 2.1.0, ma ancora non sappiamo quando questo aggiornamento sarà rilasciato. Io ho ipotizzato che sarà il prossimo 6 ottobre, quindi non questo giovedì, non il prossimo, quello dopo ancora, quindi fra un paio di settimane, ma è una mia ipotesi perché in quel giorno si concluderanno gli obiettivi della stagione. Quindi mi auguro che il 6 arrivi anche quest'update che dovrebbe, ripeto, condizionale, dovrebbe portare le lobby amici e poi speriamo che porti anche molto altro di nuovo. Quindi oggi non ci sono novità, per un istante elettuale ve lo devo dire, però andiamo a girare i Players of the Week con il giro fatto gratuitamente, grazie all'evento che si può giocare con l'intelligenza artificiale contro l'intelligenza artificiale, la potete usare anche voi. Qualcuno ieri mi ha scritto, io gli ho mandato rapidamente il link per vedere come si fa. Se vi serve anche a voi, basta che mi iscrivete, Fabrizio mi mandi il video dove si vede come si gioca con l'intelligenza artificiale contro l'intelligenza artificiale e ve lo mando subito, perché in tanti non hanno voglia di giocare contro l'intelligenza artificiale e fanno fare tutto al PC o alla consola. Ragazzi, anche se oggi è calma piatta, dai, facciamo muovere il contatore a 13.100, mancano 3-4 persone, iscrivetevi, se voi siete già iscritti fatevi iscrivere i vostri amici che apprezzano, amano i videogiochi di calcio, che siano i Football, FIFA, Football Manager, UFL, Goals, quello che volete, tanto li trovate tutti qui sul canale Italia Top Games. Quindi grazie se vi iscriverete, grazie se vi abbonerete, grazie se manderete offerta barra donazioni, grazie se farete i vostri acquisti su Amazon passando per il link di affiliazione presente all'inizio della descrizione del video. A voi, lo ripeto, non costa un centesimo di più, a posto è andare direttamente in app di Amazon, nella home page, primete su quel link e fate lì tutti gli acquisti che volete, non solo videogiochi, quello che volete su Amazon, non importa, non sta a me decidere cosa dovete acquistare. Però se lo fate, invece di andare sulla home e sull'app di Amazon e invece cliccate quel link, se non lo trovate all'inizio della descrizione del video, ve lo giro io, basta fare un commento, ci aiutate davvero in modo importante, è fondamentale per noi questo supporto e a voi non costa un centesimo di più. Comunque, detto tutto questo e detto che penso di fare qualche innovazione per la nuova stagione di football nella squadra, a proposito, stasera ultime possibilità di promozione in divisione 2, c'è proprio una speranziella, non di più, comunque ci vediamo alle 21 e detto che domani mattina c'è già un argomento per domani, però adesso non ve lo anticipo, se no qui non so cosa raccontarvi, andiamo un po' a girare questo giocatore alla settimana. Non ci sono nomi che mi facciano interessare particolarmente, se vi devo dire la verità, perché con la panchina corta non ho nomi particolarmente invitanti da inserire. Certo, ovviamente c'è il signor Lewandowski, che è un giocatore di primissimo piano, però per il mio tipo di gioco e per il fatto di avere Giambappé come titolare, avere già Holland come riserva, onestamente c'è ben poco da chiedere in questo momento. Eccolo qui Lewandowski con la sua finalizzazione a 93, comportamento offensivo a 90. Certo, anche De Polla è un ottimo giocatore, che parte già da 94, già potenziato, potrei usarlo come trequartista al posto di Modric, a me Modric è un giocatore per me insostituibile. Rodrigo già come Eda potrebbe essere male, ma c'è un certo signor Messi, idem per Tadic, anche lui Eda. Andanovic potrebbe essere una buona riserva rispetto ad Ederson, ha un stile più o meno... Siamo lì, solo che ecco, ma no, forse sostanzialmente ci farei poco, così come ci farei poco con Gakpo, con Pedro Consalves, con Badia Schiele. Insomma, questi giocatori alla settimana, l'avevo già detto giovedì scorso, non è che mi interessavano più di tanto, la Croix pure, vabbè, non mi fanno proprio impazzire. Insomma, comunque, De Polla e Lewandowski li prendi volentieri, poi valutazione A magari li butti dentro e vedi come vanno le cose. Comunque, andiamo a fare questo giro gratis e vediamo un po' chi esce. E' purtroppo dovuto togliere la musica e c'era un cruscio di fondo orrendo, non so davvero cosa sia successo. Per il prossimo video che faccio su PlayStation 5, prima faccio qualche test. Liga Spagnola non è Lewandowski, perché è 4 stelle, altrimenti era 5. Giuse Angel, Carmona, terzino destro, se non vado errato, neanche avevo visto le valutazioni perché era il più scarso degli 11. Eccolo qui. Giuse Angel, Carmona, 90, TD, 90. Come giocatore non sarebbe male, sostanzialmente, perché comunque un terzino destro, 90, che magari andandolo a utilizzare nello schema di gioco sale pure di qualcosa, come riserva di cancelo, che per il momento è titolare inamovibile, non sarebbe neppure male. Il problema, lo ribadisco, è che con una panchina corta in cui ho bisogno di portare ai giocatori è difficile da inserire in panchina. Allora, andiamo un po' a pescare. Eccolo qui, Carmona, 90, mettendo nello schema di gioco arriva a 92. Comunque 2 over almeno di cancelo, che ha un buon accelerazione, buon salto, velocità, contatto fisico, resistenza 81, contrasto 80, coinvalcimento 80. Che vi devo dire, ragazzi? Non è malaccio, però il problema è che, ed è pure ad A, però il problema poi è dove metterlo, a posto di chi metterlo in panchina, perché tra un attimo recupero un attimo cancelo e poi andiamo a vedere un po' la mia situazione in panchina. Eccolo qua, Ojer Zabal è uno che per i quattro ruoli d'attacco arriva a 98. Holland è il miglior sostituto, è la migliore riserva di slusso possibile. De Bruyne mi serve perché Modric non fa i 90 minuti. Coman, per Leao e Messi, se sono stanchi o se sono fuori forma, è un'ottima riserva. Casemiro mi serve se uno dei due mediani non è in gran forma. Laporte non solo mi sostituisce Koulibaly e Rudiger, ma anche inserisco un terzo difensore a posto del terzino. Ogni tanto c'è Hernandez negli ultimi tempi che è piuttosto spesso con la freccia verso il basso. Insomma, quindi, poi io un portiere, a differenza di tanti altri, riesco sempre a portarmelo se vedo freccia rossa o freccia giù. A me, sinceramente, non piace vederlo e quindi questo è quanto. Però dico, cara Konami, anche te, converrebbe farci fare una panchina ad almeno 10-12 giocatori? La gente sciopperebbe di più perché vorrebbe fare una squadra in tutti e 22, magari 11-11 di riserva, più forte possibile. Perché non inserire questi, almeno più giocatori? Perché non farci fare le cinque sostituzioni come oramai è cambiato il mondo del calcio? Sarebbe un'ottima cosa. Speriamo che prima o poi ci prenda in considerazione perché è una delle poche cose su cui mi sembra che siamo davvero, davvero, tutti, tutti d'accordo nella community di eFootball. Io, ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento di nuovo questa sera alle 21 se vorrete seguire le mie ultime esperanzielle di promozione in Divisione 2. Ovviamente, se ci saranno delle breaking news, un nuovo video arriverà, altrimenti l'appuntamento è per le 21. Io vi ringrazio tanto per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo video, grazie per essere arrivati fin qui e vi auguro ancora una volta buona giornata. A prestissimo, ciao!